Visto che ha funzionato la gratuità e il biglietto unico, una riduzione dei costi del biglietto? No, i costi del biglietto, in particolare il singolo, a 1,50 euro, sono già bassissimi, nel senso che difficilmente sarebbe sostenibile dal punto di vista economico una riduzione ulteriore. Credo invece che alcune ipotesi su quali il tavolo metropolitano sta lavorando, di omogenizzazione del servizio, anche dal punto di vista tariffario, su area metropolitana sia la direzione giusta su cui lavorare.